Musica A tutti voi una cordiale buona serata, ben ritrovati con Sanità Benessere Oggi. Do subito il benvenuto agli ospiti di questa sera, il dottor Stefano Tassin, direttore scientifico del Gondola Medical Technologies. Buonasera. Buonasera a lei dottore, bentrovato. Chiara Previati, terapista della riabilitazione nel centro La Panacea a Copparo. Bentornata Chiara. Grazie, buonasera. E proprio di riabilitazione questa sera parliamo, l'avete anche già letto nel titolo, ma una riabilitazione particolare, quella neurologica. E allora dottor Tassin, innanzitutto che cosa vuol dire riabilitazione neurologica? Riabilitazione neurologica vuol dire riuscire a migliorare o prendere in giro il cervello su degli aspetti che non è più in grado di compiere. Se parliamo di malattie che di solito dobbiamo che fare come tendenzialmente Parkinson o disturbi nel movimento generalizzati da malattie simili, non ictus, perché è un'altra cosa, cosa succede? Succede che il paziente che si trova ad avere, come ormai detto diverse volte, delle turbe del cammino, intanto partiamo da un'ignoranza del paziente perché non c'è un'informazione adeguata. ossia quando viene diagnosticato il morbo di Parkinson, la malattia di Parkinson, il paziente quello che sa lo legge su internet o glielo racconta al suo amico e quando chiede al proprio neurologo cosa succede, vengono investite due minuti di comunicazione dicendo che la malattia tende a rubare un po' di movimenti, ma vedremo cosa possiamo fare e finisce lì. Quindi il paziente non ha grandi armi a disposizione, in prima fase utilizza i farmaci che vanno molto bene, andato un momento il paziente peggiora, si reca dal neurologo, il neurologo sicuramente proporrà una riabilitazione, un piano fisiatrico per fare in modo di riabilitare questo paziente nei movimenti. E qui secondo me cade un po' la questione di neurologia applicata alle riabilitazioni. Perché? Perché il paziente neurologico, in questo caso Parkinson, non è un paziente che ha necessità di muovere il suo corpo come altri pazienti con disordini di movimento legati a delle imperme motori ortopedici. Quindi il paziente Parkinson fa fatica a camminare non perché lo vuole, ma perché c'è qualcosa che non funziona. Questa cosa però nel paziente non viene mai ascoltata, lo si dà per assodato e il paziente si limita a fare quello che gli viene detto. Quindi incominciano a fare un'attività legata alla propercezione, cioè entrano in queste palestre, il paziente ha un disordine in movimento, questi li mettono su delle pedane, gli fanno alzare la gamba, fanno delle cose che a mio avviso sono poco significative, anzi aumenti la paura del paziente. Giocano sul fatto della velocità, giocano sul fatto di fermarli, farli ripartire, alzare bene le gambe, che sono tutte cose che quando uno dice non vanno bene, in realtà è una finta bugia, perché a livello di ginnastica, quella non è riabilitazione ginnastica, la ginnastica va bene a tutti. Dunque è innegabile che a tutti fa bene il movimento, ma se noi vogliamo parlare di malattia, il cervello del paziente Parkinson reagisce in modo molto diverso, ossia provate a immaginare di essere all'interno di un cervello con una malattia di questo tipo. Cosa succede? Succede, come già noto, che le connessioni che servono per muoverci si riducono. Quindi io, che vivo questa esperienza e devo compiere delle azioni come ieri, ma con più difficoltà, troverò delle strategie. Quindi, se per me pare il primo passo lungo, che è una cosa che facciamo tutti, esce difficile, fa niente, farò il primo passo corto, ma comunque qualcosa devo fare. E quindi, per fare 10 metri, io utilizzerò una particolarità di movimenti che normalmente non utilizzavo ieri, che non avevo questo problema. Questo implica due cose. La prima cosa, un eccessivo sforzo mentale e fisico per compiere la medesimazione con molta difficoltà. E la seconda cosa, che è quella fondamentale, è quella che noi perdiamo di vista l'obiettivo. Ossia, per arrivare a casa mia, io compio 100 metri dritto, poi giro a destra e compio altri 100 metri dritto e arrivo a casa mia. Provate a immaginare questa cosa. Questo schema, sì. Nel momento in cui io non sono capace di fare questa cosa, perché non ho di fronte a me la fluidità per poterlo fare, cosa faccio? Faccio 5 metri, poi mi fermo e devo ragionare su quanti metri ci vogliono ancora per arrivare ai 95 per girare a destra. Sì. Nel frattempo, il ragionamento è, ma ce la farò? Quindi subentra anche un po' la paura. Lì incomincia un innesco di parte fisica con parte psicologica con parte di paura. Questa cosa è un fenomeno che non viene mai, mai parlato in televisione, non viene mai parlato sui libri, sui testi di riabilitazione. Si dà per scontato che tu ti muovi così e dunque se tu vuoi migliorare io ti devo far ripetere quel tipo di movimento. E' assolutamente sbagliato perché comunque i pazienti con malattia di Parkinson dopo i 5 anni vanno alla ricerca del loro movimento come pollicino. Loro provano a mettere in giro qua e là, no? Dei piccoli semini per poi fare il loro viaggio. Ma non ce la fanno. Non ce la fanno perché non sono aiutati, cioè perché la comprensione di chi dovrebbe insegnargli questa non ce l'ha. Non ce l'ha. Quindi i pazienti che vengono a utilizzare gondola sono direi di due tipi. I pazienti che hanno l'esordio della malattia, che dunque sono meno pollicino, perché si sono persi meno, hanno una facilità maggiore di recuperare tutte le loro funzioni. La seconda invece è chi è un pollicino convinto perché dopo 5, 6, 7, 8 anni e questo paziente che ha provato a fare riabilitazione ha visto che non ha avuto nessun tipo di miglioramento si rintana in casa. Quindi quando noi ci troviamo di fronte al secondo tipo di paziente, il paziente giustifica sempre i suoi atteggiamenti dicendo io non sono capace. La cosa più sciocca è dirgli che non è vero. Perché ha ragione, proprio perché è un cervello perso di movimenti. Sì, perché non è il corpo che non è in grado di, ma è il cervello che non riesce a trasferire l'informazione. Quindi se è vero che dopo due minuti di stimolazione noi siamo in grado di riattivare tutte le aree motorie è anche vero che il paziente non lo sa. Perché in due minuti per lui non è cambiato niente. Per noi, noi sappiamo che è in grado di fare e compiere delle azioni. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo assolutamente fare un viaggio ritroso e andare a riprenderci i nostri semini fino ad arrivare alla base. Questo è un lavoro, tutto sommato, che richiede una grande attenzione anche del paziente. Intanto la finalità è quello di ritornare a camminare come prima. Chiaro. Passando attraverso questi vincoli e vicoli che si è creato inizialmente per riuscire a vivere. Ma ridando le coordinate giuste e soprattutto a fare una cosa che non fa mai nessuno dare fiducia al paziente noi riusciamo a migliorarlo in maniera estremamente evidente e regalargli un pezzo di vita migliore. Ecco, proprio questo pezzo di vita migliore è quello che i pazienti vengono a guadagnare all'interno del tuo ambulatorio, Chiara. Ne hai sotto gli occhi tutti i giorni. Sì, sì, assolutamente sì. Cambia nettamente il target e quello che andiamo a fare sul paziente soprattutto. La cosa essenziale è fargli riprendere proprio gli schemi corretti e quindi molto spesso, anzi quasi sempre, va ripreso l'ABC della camminata. Quindi torniamo indietro a quello che poteva essere ricominciare da bambini a camminare. Riprendiamo la fase del passo, quindi tacco pianta punta, l'estensione del ginocchio. Cioè devo proprio riprendere quegli schemi che sono saltati col discorso Parkinson. Cioè Parkinson li obbliga ad utilizzare dei movimenti che sono quelli che loro riescono ad innescare perché fanno così, perché ce la fanno fare quello, non riescono a fare altro e quindi hanno quel tipo di andatura che è singolare per ogni tipo di paziente. Ogni paziente si trova un suo schema che deve essere rotto, che deve essere riportato nuovamente alle origini e che deve essere nuovamente rimpostato. Quindi ci vuole anche della forza di volontà da parte del paziente. Assolutamente sì, quello che viene richiesto è proprio uno sforzo incredibile nei primi momenti di utilizzo, di collaborazione, perché è lì che ci giochiamo il vero risultato e il vero miglioramento che può dare gondola. Gondola apre le piste motorie, ci ripermette di connettere, ci ripermette di trovare nuovamente quello che è l'equilibrio e la spontaneità di movimento. E quindi su quello poi dopo noi possiamo riprendere gli schemi di prima. Se io lo faccio in un paziente Parkinson che non fa gondola, zero, zero, migliora quel po' leggermente. Se lo faccio su un paziente che fa gondola, questo mi dà dei risultati che sono estremamente notevoli. Molto spesso dobbiamo riprendere anche quella che è la loro percezione corporea, perché viene completamente annullata, viene completamente cambiata. Per loro camminare è camminare, punto. Camminano, ma come, ma in che modo, ma con che dispendi energetico, perché io quando comincio a non essere più in asse, non essere più in equilibrio e così via, consumo tantissima energia, ancora di più di quella che di solito viene richiesta. Già non ne ho perché mi manca il neurotrasmettitore, già innesco una serie di movimenti che non sono quelli naturali. Quindi tu uno più uno più uno, arriviamo a cento, quindi riportare a uno con gondola il tutto è estremamente... Immagino anche che il paziente, dopo aver imparato a sfruttare bene gondola, abbia più energia da distribuire durante tutta la giornata. Assolutamente sì, assolutamente. Invece di arrivare, che ne so, a un determinato orario che di solito è verso il tardo pomeriggio, quantomeno forse primo pomeriggio, così che sono già in deficit, perché fanno tutta la mattina, in genere il paziente tipico è appena sveglio, dove ho il farmaco che mi funziona un po' meglio rispetto al resto della giornata, faccio tutto la mattina, esaurisco tutte le mie energie, dopodiché il pomeriggio sono K.O., comincio a riprendere un po' più di energia verso sera e quindi comincio ad andare un po' meglio. Poi fino ad arrivare a ora di andare a letto, che è un altro step duro, perché ovviamente sono stanchi e quindi arrivano proprio a sera che sono sfiniti. Il fatto di allungare e di poter distribuire nell'arco della giornata le forze, le energie, ovviamente cambia la qualità di vita, cambia anche quello che è. Se ne accorgono, cioè fanno questo lavoro insieme a te, quindi a un certo punto si accorgono della differenza. Certo, certo. E soprattutto imparare a gestire quelle che sono le loro attività nell'arco della giornata. Che non vuol dire faccio tutto la mattina perché poi dopo mi gioco le mie energie e basta. Distribuisco, faccio meglio, le spezzetto durante l'arco della giornata e anche l'attività fisica deve essere spezzettata. Forzionata, certo. In modo tale che non faccio tutto in un unico momento del giorno, ma mi mantengo in un certo allenamento. Sì, certo, una costanza di movimento e comunque la distribuisco nella giornata e nella settimana. Esatto. E so che se eccedo, quel giorno eccedo perché voglio fare qualcosa. Poi pago a sera, ovviamente. E quindi non è la malattia che avanza. Certo. È che ho usato troppe energie e quindi me la devo risparmiare un pochettino. Con Gondola riusciamo a distribuire meglio questo tipo di energia e di attività che diventa più facile da utilizzare. Immagino che anche il lavoro del riabilitatore, alla luce di una seduta con gondola, sia completamente differente. Assolutamente. Assolutamente, anche perché quando ci troviamo di fronte a dei pazienti che non utilizzano gondola e quindi usi le strategie, usi le solite scamottage, le solite tecniche neuro-riabilitative, il paziente che utilizza gondola diventa più un paziente ortopedico che non neurologico. Quindi diventa già tutto più semplice e tutto... Rimane in memoria qualche cosa. A differenza del non utilizzare gondola che il giorno dopo siamo a punta e a capo e riprendiamo... Non perdiamo mai definitivamente quello che abbiamo acquisito, rimane sempre qualcosa in memoria che lo possiamo spendere per il giorno dopo o per la volta successiva, dipende da... Ecco, perché infatti un punto fondamentale da chiarire è questo, non è che gondola elimini il bisogno di riabilitazione. Dica, dottore. Allora, io la vedo come segue e ribadisco. Senza gondola i pazienti vengono presi come dei criceti, vanno sulla ruota e girano tutti i giorni, fanno sempre la stessa cosa. Quando smettono, non hanno acquisito niente perché è un movimento forzato, li rimettono sulla ruota e li fanno girare. Questo viene facile a pensare che non serve a niente perché durante la giornata tu la ruota e non la usi. Succede una cosa molto bizzarra che è la seguente. Il paziente ha tutti i suoi problemi motori e tutte le sue difficoltà. Il bagno di fiducia deve essere fatto una volta sola, nel senso che se noi riusciamo a far riconquistare, non con delle strategie, ma con quello che ha perso, cioè far ritornare alla mente come si muoveva prima, automaticamente il paziente lo mantiene e il Parkinson non glielo porta a via più. Ok, questo... È completamente diverso perché conosci... La maggior parte dei pazienti, quello che dicevo prima, non conosce la malattia di Parkinson. E quindi se tu non sai chi è il tuo nemico, sul ring ne hai paura. Certo. Ti metti in un angolo, prendi un sacco di botte e finisci all'incontro. Ma se tu parti con l'idea di dire mi ha portato via l'innesto della marcia, mi ha portato via una parte di equilibrio e mi ha portato via una parte viso spaziale, cosa vuol dire viso spaziale? Vuol dire che quando c'è un ambiente stretto loro si bloccano. perché non hanno il riconoscimento di quanto sono grandi in uno spazio. Se facciamo un viaggio ritroso dicendo oggi dopo gondola vedi che cammini meglio, bene. Camminare bene vuol dire che le tue gambe funzionano, vuol dire che il tuo apparato osteoarticolare funziona, quello che ci diceva prima. Dunque non è un problema ortopedico, pertanto sei capace di farlo. Sei capace di farlo molto meglio perché hai uno sprint celebrale che prima non avevi. Attenzione adesso. Lui, il signor Parkinson, proverà a distruggerti sul campo ogni volta che tu sbagli. Ossia, se tu cammini bene con gondola, cammini bene. A un certo punto ti fermi, sei distratto, parli con un tuo amico, riparti, riparti sbagliato, perché non hai ancora assimilato. Nel momento in cui fai il primo passo sbagliato, tutti gli altri passi risulteranno sbagliati e gioca ancora l'adrenalina. Ah, ok. Quindi si tratta, dovete immaginare, una striscia di informazione, una striscia grande così dove c'è il Parkinson. Sì. E tu sei una striscia piccola così, no? Dunque lui è qui, ti ha portato via tanto, e tu sei qui. Se fai le cose che ti diciamo, perché fanno parte della natura umana, tu continui a spingere la tua sticella blu rispetto a quella rossa, molto più avanti. E la cosa incredibile è che mentre la tua sticella blu migliora, la sticella rossa si riduce. E quindi, alla fine, lui dice, non gioco più. Non gioco più. Hai vinto a te. Questo che ha detto è fantastico. Forse non eravamo mai riusciti a spiegarlo in maniera così lampante. Non gioco più. Perché comunque hai vinto. Perché comunque non mi dai la possibilità di darti fastidio. E questa è una cosa che, se il paziente dà fiducia a quello che noi facciamo, lo fa una volta. Ecco, se è vero quello che sto dicendo, provate a immaginare che noi oggi, a livello riabilitativo, invece, il 90% delle persone è ancora sulla ruota. E quindi il Parkinson continua a fare il Parkinson e il paziente è passivo. Continua a fare il Parkinson, continua la depressione, continua a aumentare i farmaci, continuano gli effetti collaterali e io non ho armi. Quindi un paziente che rimane bloccato tutto il giorno, che riesce ad alzarsi in piedi post terapia e fa 4 passi, non 60, non servono, 4 passi, ha dimostrato di vincere, perché 4 passi o 4.000 non cambiano niente. Lui al quarto passo ti mette l'errore e ti dice ecco che ti blocco, vediamo, tu ti fermi, ricominci la marcia e come dicevo prima, il rosso riduce. Dunque, noi vinciamo sul campo, riordiniamo le coordinate a livello di sinapsi al nostro cervello e il Parkinson perde. Grazie dottore. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. restate con noi perché quando torniamo parleremo ancora di gondola ma anche alla luce di altre problematiche quali possono essere l'ictus o anche le paralisi cerebrali infantili o delle altre malattie neurologiche. State con noi. Ed eccoci tornati in studio. Stiamo affrontando la tematica della riabilitazione neurologica. Abbiamo capito quanto è diverso riabilitare un paziente neurologico rispetto a una normale o consueta riabilitazione di tipo ortopedico. Questi discorsi li stiamo affrontando insieme al dottor Stefano Tassin del gondola Medical Technologies, direttore scientifico e Chiara Previati, terapista proprio della riabilitazione. In questo caso nella doppia veste di riabilitatrice appunto ortopedica ma anche neurologica. Abbiamo affrontato nella prima parte di puntata quelli che sono i problemi legati al Parkinson e quindi alla riabilitazione di un paziente Parkinson. Un altro discorso diverso è quello legato invece all'ictus che è pur sempre una patologia di tipo neurologico ma che ha problematiche nettamente diverse. Completamente diverse. Dottor Tassin magari introduciamo. Sì, assolutamente vero. Sono due cose mare, montagna. Nella rieducazione riabilitazione del paziente ictus a parte i primi periodi che ne abbiamo già parlato in maniera estremamente ampia cioè 5, 4, 5 mesi dopo l'evento ischemico in base alla gravità dell'evento ischemico ci sono dei miglioramenti assolutamente spontanei perché qui non prendiamo meriti nessuno. Poi possono essere amplificati dalla riabilitazione in stroke unity ma tendenzialmente l'assorbimento dell'ematoma all'interno del nostro cervello avviene per seconda intenzione e quindi il danno tendenzialmente si riduce. In qualsiasi caso ci troviamo di fronte alla cosa più comune lasciando gli accessi inferiori o superiori l'evento ischemico transitorio che guarisce da solo non ha bisogno sicuramente né di gondola né di nessuno di noi e tendenzialmente sparisce la problematica nell'arco di qualche giorno quello estremo che non ha più bisogno di noi perché va da un'altra parte ma diciamo che se ci concentriamo sulla parte centrale che sono veramente tanti gli eventi ischemici anche lì sbagliamo a introdurre il nostro metodo riabilitativo il paziente si sveglia in una condizione da sano ammalato questo è quanto un evento ischemico ti cambia la vita in qualche ora certo nel momento in cui sei stabilizzato che entri in neuro-riabilitazione i giochi sono fatti quindi avrai sicuramente la parte destra o la parte sinistra con un deficit motorio significativo viene chiamata emiparesi cosa succede ancora una volta a questo testone di un cervello succede che per difesa il nostro cervello tende ad amplificare in maniera estremamente volgare la parte sana lo fa talmente bene che la rende patologica in che senso ossia il paziente manda completamente a riposo la parte che non si muove e il cervello dice mi rendo conto che lì non ti muovi ci penso io e questa cosa in riabilitazione in neuro-riabilitazione viene invece di essere contrastata viene aiutata a questo fenomeno che è vergognoso cioè allenano la parte buona del corpo riallenano la parte allora qui dobbiamo dividere due aspetti se non dico dottore Matto dobbiamo dividere due aspetti il primo è quando l'evento ischemico ha fatto realmente morire tutta una parte quindi il paziente non ha neanche spasticità ha una lassità totale dunque c'è stato un danno estremamente importante ma questo è limite perché tendenzialmente non si sopravvive però se noi ci troviamo di fronte a un paziente limite in dubbio che la figura dell'operatore che viene chiamato operatore occupazionale va a insegnare sull'arto buono tutta una serie di cose che tu devi fare che prima facevi magari con la parte opposta e quindi è estremamente efficace intelligente intuitivo e soprattutto di grande aiuto al paziente punto lasciamolo da parte occupiamoci invece della massa più grande dei pazienti critici quelli che hanno la spasticità dell'arto superiore e dell'arto inferiore quando escono dal ciclo riabilitativo i pazienti escono sempre con un tripode dunque con un terzo appoggio molto evidente che gli permette di deambulare se noi facciamo a casa questi pazienti magari al supermercato ci viene come le immagini che stiamo vedendo si noterà sempre che l'arto problematico è molto lento e guardate quanto è veloce l'arto sano dunque lì c'è la classica evidenza che l'arto sano sta prendendo sopravvento su un arto che è più lento più strutturiamo questa cosa più il paziente non imparerà mai cioè il cervello che dice a un certo punto alla gamba tra virgolette sana vai veloce perché quell'altro è talmente lento che cade vai veloce vai veloce vai veloce andando veloce è assolutamente sbagliato noi siamo bipedi dunque non riusciamo a pareggiare l'andatura quando utilizziamo gondola su pazienti di questo calibro facciamo una cosa stupenda andiamo a ridurre la spasticità dell'arto problematico riducendo la spasticità aumentiamo la funzionalità e una delle cose che noi chiediamo ai nostri pazienti è quello di creare una simmetria di non essere veloce con l'arto sano ma di dare la possibilità all'altro di imparare perché se continui a essere veloce l'altro rimarrà sempre indietro e tutti i strutturi in questo modo quindi la cosa incredibilmente bella è vedere i nostri pazienti che dopo la stimolazione dopo avergli spiegato chiaramente qual è il nostro obiettivo tendono a creare la semi ecco anche qui lo vedete quello che vedete sulla sinistra il dopo è un paziente qui siamo a Parigi è un paziente con uno stroke un evento importante dopo 15 giorni 20 giorni incredibile l'abbiamo preso ma nonostante che cammini in autonomia come potete vedere l'arto sinistro quello sano è molto veloce sì ok e quello in realtà in prima istanza per dargli la possibilità di camminare in autonomia va bene ma subito dopo bisogna assolutamente ridurre la funzionalità del sano solo in questo modo riusciamo a recuperare una simmetria direi quasi perfetta quindi la spontaneità però dell'arto sano la spontaneità dell'arto sano è quella di essere molto veloce e prendere il sopravvento a quello sano che fine fa nel senso come faccio a equilibrare perché comunque un passo che ho sempre fatto in quel modo lo farò sempre in quel modo no assolutamente no non è vero perché prima lo facevi molto più lento da quando hai avuto la problematica l'hai raddoppiato la velocità dunque ancora una volta è innaturale ancora una volta sei tu che stai costruendo una strategia perché riesci a camminare meglio questo è dettato anche dal fatto ancora una volta dall'ignoranza di non spiegare ai propri pazienti lo scopo perché suona il telefono devo andare velocemente e faccio tutta questa cosa strana per arrivare al telefono chi ha un problema di questo tipo purtroppo in un arco di tempo per migliorare deve prenderselo con estrema tranquillità perché perché il recupero che tu dai in prima fase è il recupero che gli rimane per tutta la vita dunque se togli la simmetria e inserisci dentro che l'arto sinistro l'arto destro quello colpito può pareggiare la velocità del destro nel momento in cui fai quello hai guadagnato il 60% in più di come oggi vengono trattati i pazienti chiaro grazie quindi Chiara in questo subentri tu certo qui il discorso è veramente questo cioè i pazienti che compensano con la velocità di movimento quello che è il deficit è la nostra la nostra pecora nera ecco chiamiamolo così perché è quello che ci impedisce di riprendere il movimento corretto sia dal lato destro che dal lato sinistro indipendentemente che dopo subentrano la spasticità quindi dobbiamo ridurre la spasticità e qui gondola entra in gioco in maniera evidente perché riducendo quella ci ripermette di recuperare quella simmetria che serve e soprattutto far sì che il paziente possa far sì che il lato destro e il lato sinistro ritornino più o meno ad avere la stessa velocità ovvio che se io ho una gamba che è tira passiamo il termine a questo cioè è più in accorciamento perché la spasticità è maggiore l'altro cerca di compensare abbassando il livello di spasticità ho la possibilità di recuperare questa cosa altrimenti continua ad accelerare con l'arto buono perché passo meno tempo su quello che ha delle problematiche passando meno tempo su quello che ha delle problematiche mi porto avanti e soprattutto non ho la perdita dell'equilibrio quindi non ho la paura di cadere da quella parte lì infatti abbiamo visto nel primo e dopo che la ragazza abbandona il tripode appunto che le è stato dato sicuramente in un primo momento e il dopogondola è senza tripode quindi ha di nuovo la possibilità di stare in piedi da sola da sola ha riecuperato l'equilibrio la rivediamo ancora perché è ridondante ma ai fini dell'efficacia del massaggio riesce a stare sull'arto plegico in modo tale che questo alla regga riesca a dare il modo all'arto sano di andare avanti con tranquillità e poi l'altro riparte e rifà il movimento più sequenziale meno scattoso meno brusco meno bloccato che è il discorso della rigidità poi della spasticità scusa perché la rigidità è un'altra cosa della spasticità dell'arto dell'arto paretico quindi un riprendere anche qua la normalità qualcosa di più fisiologico di più spontaneo rispetto a un paziente Parkinson a furia di fare la stimolazione l'esercizio la riabilitazione abbiamo una differente risposta del paziente ictus assolutamente perché il paziente Parkinson è una malattia di tipo degenerativo quindi ci toglie un pezzettino andando avanti negli anni e poi comunque è proprio diverso lì è stato un evento c'è stato un danno parti da lì e vai a ricostruire quello che è il movimento quello che è il recupero e non sappiamo fino a che punto riusciamo a recuperare perché lì di volta in volta possiamo avere un miglioramento ulteriore quindi e non lo perdiamo non torniamo all'intruso perché quello che è conquistato è conquistato certo quindi possiamo solo che migliorare andare avanti e migliorare la paziente Parkinson ha tutta un'altra situazione problematica e quindi ci possono essere dei momenti in cui la malattia fa un passettino indietro e quindi dobbiamo recuperare ulteriormente la diversità è proprio questa sta nel tipo di danno che c'è a livello del sistema nervoso e il tipo di recupero che è diverso tra un paziente e l'altro ecco abbiamo quindi fatto diciamo due grandi categorie di approccio della gondola sulla riabilitazione neurologica restano ancora un paio di argomenti che magari in chiusura di trasmissione proviamo a trattarli poi li approfondiamo nel prossimo appuntamento la paralisi cerebrale infantile quindi l'ictus ai bambini se ho tradotto bene e poi le altre casistiche neurologiche di cui a volte ci siamo insomma interessati sì la paralisi cerebrale infantile è un fenomeno non poco difuso perché in Italia sono tantissimi bambini che nascono con questo problema con questo ictus perché è di quello che stiamo parlando la differenza che c'è tra un bambino e un adulto è che il bambino cresce quindi la possibilità terapeutica di migliorare in maniera molto più significativa aumenta perché perché il danno che è piccolo nonostante che il danno sia grande a livello visivo ma è sicuramente una sofferenza in un'area del cervello che man mano che la teca cresce dunque la teca cranica cresce e lo sviluppo armonico del cervello aumenta la propria massa viene da sé che il danno tende a rimanere piccolo il bambino ha miliardi e miliardi di connessioni il bambino non ha paura l'adulto sì quindi quando noi trattiamo dei bambini che non hanno mai camminato la prima cosa che puntiamo a fare dopo la stimolazione è a seguire il ciclo della vita fisiologica il primo bambino deve imparare a rimanere seduto non è così scontato perché quando i bambini hanno questo problema e vengono trattati in modo anche lì completamente diverso ci troviamo bambini che li mettono sdraiati sul lettino e dicono no no ma lui riesce anche a camminare bene mi faccia vedere come fa a camminare li prendono li mettono su questi girelli che si chiamano grillo se non ricordo male vengono imbragati come se fossero dei nuotatori di SUV e con queste gambette tendono a fare qualcosa e si spingono in avanti quello non vuol dire camminare quello vuol dire agitarsi perché il camminare sappiamo molto bene che è molto diverso anche lì si ritorna con l'aspettativa di riaccendere di illuminare per la prima volta l'area motoria che loro non conoscono perché non l'hanno mai utilizzata e con grande stupore abbiamo visto che i bambini imparano molto velocemente a rimanere seduti poi ci mettono del loro perché nel momento in cui sono seduti basta dagli giocattoli che non capiscono più niente le ore passano da seduta nel momento in cui sono seduti la cosa importante è metterli contro il muro sempre dopo le stimolazioni e fargli provare cosa vuol dire caricare il peso sulle loro proprie ginocchia lo farà in piedi da solo? no lo farà in un angolo del muro dove è obbligato a rimanere in piedi ma non lo prendi in giro perché ancora una volta gli dai la pallina non capisce più niente l'adulto ti guarda in faccia e ti dice dammi la sedia se non muoio è una cosa molto diversa quindi il bambino ha uno sviluppo molto più veloce e una prensione molto più veloce dell'adulto tant'è vero che gondola trattata con questi bambini in giro di poco ricominciano a camminare magari la spasticità è tanta dunque camminano male ma il nostro compito è quello di farli camminare poi ci sono n persone molto più bravi di noi a livello riabilitativo che si occupano sul migliorare questi aspetti ma quello che a noi interessa è che il bambino cammini ovvio questo per quanto riguarda invece l'altra parte che noi trattiamo trattiamo le polineuropatie sensitive motorie che cos'è? è una malattia dei nervi normalmente nelle forme miste non sappiamo perché invece sappiamo in tante altre forme perché il primo in assoluto sono i diabetici il diabete è una malattia che bene o male qualcuno conosce quasi tutti conosciamo un nostro amico diabetico o un parente diabetico che cosa fa il diabete va a rovinare le guaine nei nostri nervi e quindi crea una riduzione di sensibilità all'interno dei nostri arti braccia mani dove la sensibilità soprattutto tattile a livello di appoggio dei piedi viene a meno non soltanto per quelli succede anche ai pazienti che hanno avuto delle problematiche legate alla tossicodipendenza insomma tutta una serie di agenti chimici che in qualche modo rovinano le afferenze dei nostri nervi la tossicodipendenza ma anche l'alcolismo addirittura ahimè anche tanti chemioterapici chemioterapico è sicuramente quello che fa da padrona per salvare la vita il tumore di tante persone dunque in realtà spesso ce la fanno a sopravvivere grazie a Dio grazie alla scienza più che a Dio ma come effetto collaterale spesso e volentieri capitano queste problematiche queste problematiche sono le problematiche che una piccolissima parte tende a sparire da sola e una grande parte te la tiene per tutta la vita dunque queste qua sono forme iatrogene cioè causate da qualcosa di chimico che in qualche modo ha leso il nostro sistema gondola tende a svegliare prima possibile dunque a creare una percezione maggiore a questi pazienti dunque crea una consapevolezza dell'appoggio del piede e automaticamente visto che non ci sono delle malattie neurologiche importanti il paziente riacquisisce immediatamente fiducia e tende a migliorare la qualità della vita grazie so che l'argomento andrebbe sviluppato in maniera molto più analitica avremo modo di farlo nel corso delle prossime puntate degli appuntamenti con il gondola medical technology se io però prima di salutarvi vi lascio come sempre il numero di telefono lo 0297070465 perché telefonando alla clinica potrete esprimere il vostro caso raccontare il vostro problema e quindi eventualmente guidati da personale qualificato intraprenderete il percorso più giusto per voi restano sempre a disposizione il sito internet e ovviamente un indirizzo email al quale potete scrivere grazie come sempre di essere rimasti in nostra compagnia un saluto alla dottor Tassin e a Chiara Previati l'appuntamento con Sanità Benessere oggi come sempre per il prossimo venerdì ma questa come tutte le altre puntate del programma le potete sempre ritrovare sul nostro canale YouTube ovviamente continuate anche a seguirci in streaming con Telestense Play arrivederci a